si gira non vedo nessuno che si gira vabbè buongiorno a tutti ormai buonasera benvenuti nella terza puntata del TG iDoc oggi continueremo il nostro spacello di freddure partiamo subito con la prima uno dice a un altro non si sa chi se mi cerchi usa il compasso vi do un consiglio mai sputare in un mortale notizie dell'ultima ora è appena stata chiusa una fabbrica di cartigiani e sapete amore mio come scusa ma perché canti per ammazzare il tempo eh ma possiedi proprio un'arma micidiale il mercoledì torna l'estate l'anno scorso aveva dimenticato qualcosa allora siamo in una modernità molto moderna che non c'entra niente questa parola però mi sono sempre chiesta fare night vuol dire far tardi la notte qualche notizia meteo nel fine settimana si prevede pioggia abbondante però siamo fortunati c'è il ponte così avremo qualcosa sotto cui ripararci ma dopo tutte queste battute una domanda intelligente sapete come si chiamano gli attaccavalli per le scimmie appendicite e anche per oggi la puntata del TGA DOC è finita in seguito alle nostre cagate sapete tutti che noi ormai siamo fatti mettete mi piace alla nostra pagina sia su instagram che su facebook che su youtube e con il nome idoc in alcune parti idoc1417 però cercate idoc che voi ci troverete sempre un saluto e un abbraccio a tutti perché è dopo le mie figlie siamo fatti Grazie a tutti. Grazie a tutti.